E' importante e bello vivere qui perché ci troviamo a dieci minuti dalla città dell'Aquila che sta rinascendo meravigliosamente. Ocre stesso sta pian piano mettendo su i nuovi tesori dell'arte nostra che è il commento di Sant'Angelo, che è anche questo castello, che è il monastero di Santo Spirito e nelle singole frazioni ci sono bellezze che vanno a riscoprirsi, a fondersi proprio per stare bene tutti quanti quelli che vogliono venire a stare qui.